Abbiamo qui la Lega del decimo municipio, cosa ci dice questa situazione qui del mare di Roma? Perché fortunatamente ancora è il mare di Roma. È una situazione angosciante, che le devo dire, l'abbiamo già condivisa anche in consulta questa situazione, che a parte la gestione e la mala gestione che avviene sulle spiagge libere, non c'è un gestione del mare di Roma. Non c'è programmazione, non c'è assolutamente una visione di città, che purtroppo un'amministrazione che ha vinto anche con questo obiettivo oggi è fallimentare. Senta, mi scusi, questi famosi varti al pontile, ci risulta che questo qui di destra, qui al Battestini, che praticamente assolutamente non è a norma, è vietato, la rete metallica, il suo spazio, la pavimentazione non c'è praticamente, perché è direttamente sulla sabbia. Quindi diciamo, le carrozzine, i portatori di Andica, è possibile raggiungere quei famosi 5 metri. Guardi, noi siamo venuti anche a fare un sopralluogo questa mattina, è evidente che quello che ha detto è vero, e non solo qui, ma anche dalla parte di Ossia Ponente, stiamo controllando, stiamo monitorando, abbiamo già fatto anche un accesso agli atti, che spero di poter reperire domani, sia sui bagni chimici, sia sulla parte del Baupic, perché un'amministrazione deve controllare, monitorare e mettere a posto nel momento in cui la situazione è devastata, così come vediamo. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei.